Ben trovato, che aspettative abbiamo? Per te ormai è il secondo anno, giusto? No, vabbè, siamo una squadra giovane, però riprogramo a fare quello che abbiamo fatto l'anno scorso. Giovane significa te uno dei giovani. Sì, sì, però siamo molti giovani, tanti ragazzi vengono under 20, tre stiamo ancora in under 20, quindi è una squadra molto giovane, però riprogramo a fare quello che abbiamo fatto l'anno scorso, ovviamente. Quello è l'obiettivo. Personalmente tu hai fatto una bella esperienza anche internazionale, hai partecipato al Mondiale a Manchester, quindi anche lì è un bel traguardo, un bel momento di crescita. Sì, come livello è sicuramente altissimo livello. Mi sono divertito, purtroppo non è andata come volevamo. Però siamo rimasti nell'elittica, con l'obiettivo l'abbiamo raggiunto. Obiettivo tuo e personale per quest'anno? Come ti vuoi. Ah, sicuramente dare tutto per la squadra, non ho obiettivi precisi ancora perché la stazione non inizia. Ovviamente, sicuramente vincere, vincere qui, vincere la nazionale. Ce ne stanno tanti ma ancora li devo tirare fuori. Buon lavoro, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.